Siamo qui a Tavormina, stanno smontando la mostra dell'arte moderna, stanno portando via i pezzi. Una mostra che è costata una cifra incredibile a Tavormina, non si è capito se è costata 600.000 euro o di più. Stanno portando via i pezzi con la gru. E' la mostra di un giapponese a cura dell'assessorato turismo del Parlamento Siciliano. Stanno portando via i pezzi con i pezzi con i pezzi con i pezzi. Stanno portando via i pezzi con i pezzi con i pezzi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.